Salve, un ulteriore problema per il divenire non seberiniano, che tuttavia non vuole ammettere di essere nihilista. Questo tipo di divenire che rinuncia anche al concetto di causa, e quindi ritiene che il mondo sia solo un apparire e uno sparire di stati, senza dover giustificare come e perché avvenga tutto ciò, questo tipo di prospettiva deve rinunciare però anche al concetto di causa, perché la causa per essere tale deve essere necessaria e quindi deve essere necessariamente connessa all'effetto che andrebbe a produrre. Ma siccome si ritiene che l'effetto non esista finché non è prodotto dalla causa, tale connessione non sussiste. E l'effetto nel divenire non seberiniano in generale non può mai essere già presente prima della sua presunta produzione, perché altrimenti non sarebbe un prodotto ma sarebbe un immediato già presente, che non renderebbe possibile la produzione. E la stessa causa allora non sarebbe la causa, perché per essere causa deve essere ciò che produce l'effetto. Se non c'è la produzione non c'è neanche quindi la causa. Il divenire non seberiniano che non vuole neanche dichiararsi nichilista deve rinunciare quindi anche al concetto di causa, ma allora in questo caso non si spiega la regolarità fenomenica. Come mai in questo divenire non seberiniano le cose della natura, gli stati del mondo appaiono conformemente a una certa regolarità? Se gli stati del mondo non hanno una causa vuol dire che vengono dal caso, cioè dal nulla in questo senso, cioè provengono da uno stato di non esistenza e quindi non sono neanche predeterminati in qualche modo. Però come mai si comportano come se fossero predeterminati, come se ci fosse una effettiva regolarità dei fenomeni che si ripete costantemente, che è anche indagato dalla scienza? Sarebbe un caso clamoroso, assurdo, non so se possa esistere stimato statisticamente un caso così assurdo, ovvero che miliardi e miliardi di anni di un universo così concepito possano essere tutti composti da attimi e configurazioni totalmente casuali. Questo è un altro problema. Ciò che non proviene dalla realtà, cioè dall'essere, non può essere neanche predeterminato, non può rispondere alle leggi dell'essere. Ma come mai, come fanno dare Severino, come mai gli stati futuri si adeguano al mondo del passato come se fossero stati già in ascolto prima del loro apparire? Nel divenire non-severiniano, la novità, ciò che non esiste da nessuna parte e che all'improvviso subentra dal nulla, non può essere inteso come qualcosa che invece incoerentemente sia già programmata anticipatamente per essere in ascolto della legge dell'essere, della struttura ontologica della realtà. La regolarità fenomenica indica proprio questo, cioè il fatto che i fenomeni che appaiono sono sempre apparsi in modo conforme a quella regolarità. Sarebbe un caso assurdo, un caso clamoroso, ma più che un caso, sarebbe una miriade, una moltitudine assurda di casi dal valore quasi nulla, dalla probabilità quasi pari a zero. Quindi ogni regolarità che appare sarebbe un ulteriore contenuto che rende sempre più assurda questa posizione. Però è l'unica alternativa, cioè sostenere che tutto sia un caso. E quindi non ci dovrebbe neanche essere la scienza a questo punto, perché la scienza presuppone che vi sia una regolarità, una necessità nel mondo che funzioni in un certo modo. E proprio in base a questo ritiene di poter poi prevedere l'esito di ulteriori fenomeni e di nuove dinamiche indagate. Ma se non ci fosse questo presupposto, la scienza non sussisterebbe. Ripeto che nell'interpretazione non severiniana del divenire, qualcosa deve per forza subentrare dal nulla. Cioè deve per forza crearsi qualche cosa, ma senza essere proveniente dalla realtà, dagli stati precedenti. Se prendiamo il rapporto di causa ed effetto, l'effetto, come dicevo prima, non può esistere già prima di prodursi. Quindi la causa lo deve produrre, vuol dire che prima di crearsi l'effetto non c'è da nessuna parte. Vuol dire che almeno un aspetto, qualche determinazione, qualche caratteristica che riguarda l'effetto non esiste in alcuna parte precedente della realtà, in nessuno stato precedente. E quindi da questo punto di vista, quelle caratteristiche nuove che appaiono sarebbero provenienti non dalla realtà. Ma allora se non provengono dalla realtà, cioè da tutti gli stati precedenti, da dove provengono? Visto che ci sarebbe solo la realtà e il nulla non c'è. E quindi se qualcosa non proviene dalla realtà, l'unica alternativa è che provenga dal nulla. Non ci sono altre alternative. Se una cosa non proviene dalla realtà, è palesemente proveniente dal nulla, anche se ovviamente il nulla non può esistere. E quella cosa che proviene dal nulla non può provenirci dal nulla. E questo sottolinea l'impossibilità ulteriore del fatto che vi sia uno stato di inesistenza, o meglio, che le cose possano crearsi o annientarsi. E per cose io intendo anche una singola determinazione. In quanto, come ha rilevato Severino, ogni aspetto della realtà è un essente e non è un nulla. E per cui è problematico anche per una qualunque cosa che appare, a qualunque livello e modo, sostenere che possa provenire dal nulla, nel senso che si sia creata dal nulla o che possa annientarsi. Solo che l'annientarsi delle cose sembra meno problematico nello sguardo nichilistico. Invece, l'idea che le cose si creino e non provengano qualche caratteristica di tali cose, non provenga da nessuna parte della realtà, da nessuno stato precedente dell'esistenza, risulta problematico persino nello sguardo nichilistico. Per i motivi che ho cercato di esporre qui. Il caso deve per forza essere la giustificazione a quel punto, in quel tipo di interpretazione del divenire. Ricordo che invece, secondo Severino, lo ricordo per chi, anzi, lo specifico per chi non ha mai seguito questi video e non conosce le tesi di Severino, lui non nega il divenire, inteso come variazione, ovvero come l'apparire e lo sparire di vari momenti, di vari essenti, di varie determinazioni, ma la giustifica tale variazione in modo non nichilistico, ovvero sostenendo la necessità che vi sia una dimensione eterna, superiore, nella quale tutto già esiste da sempre e per sempre, ogni momento della realtà, ogni relazione tra le cose, ogni determinazione, ogni caratteristica, è che semplicemente nel nostro piano le cose appaiono e scompaiono, ma non è che si creino e si distruggano, semplicemente è un apparire e uno sparire nel e dal nostro piano. Ma tutto ciò che non appare più e non appare ancora nel nostro piano esiste da sempre e per sempre in quella dimensione che Severino chiama la dimensione dell'apparire infinito. Allora in questo modo si giustifica la variazione fenomenologica, non la si nega, anche perché non la si può negare, è evidente che appare una successione di diversi momenti, ma bisogna riconoscere che è innanzitutto una successione di diversi momenti, tutti identici a sé e distinti tra loro. E una volta appurato, che è innegabile il fatto che appaiono diversi stati uno dopo l'altro, però bisogna dare una giustificazione non contraddittoria e quella nichilistica lo è perché pone come essente la dimensione del nulla, dimensione del nulla che consiste nella non esistenza di qualcosa, che consiste nella distruzione, nell'annichilimento di una cosa e nella creazione di una cosa, fosse anche un aspetto minimo, una caratteristica infima di un qualunque ente. tanto basta per produrre il problema nichilistico che qui ho cercato di illustrare. la dimensione del nulla viene posta automaticamente nel momento in cui si afferma la creazione o l'annientamento. Perché che cosa è la creazione di una cosa? il presentarsi, il venire fuori non dalla realtà, cioè dalle cose che esistono, dagli stati precedenti della realtà, ma il provenire d'altrove. non ci sono altre alternative, se una cosa subentra, ma si appura che non può subentrare dagli stati precedenti, perché gli stati precedenti quel qualcosa non lo contengono in alcun modo, perché se lo contenessero allora non avremmo la produzione, ma avremmo il prodotto già prima della sua produzione, allora appuriamo, possiamo constatare che ciò che subentra nell'interpretazione non severinale del divenire è qualcosa che non subentrando dalla realtà subentra necessariamente dal nulla. Il nulla che non può esistere, che rende contraddittoria quella posizione. proprio perché il nulla non può esistere e il niente può provenire dal nulla o può andarci, proprio per questo un qualcosa che non proviene dalla realtà è necessariamente proveniente da quella dimensione che non si vuole porre in quella interpretazione. Proprio per questo Severino rileva l'impossibilità che una cosa si produca o sia niente, perché per prodursi o nientarsi deve essere posta quella dimensione, visto che ciò che si annienta non risiede più nella realtà e soprattutto ciò che si crea non viene prodotto dalla realtà, perché non proviene dalla realtà, perché per provenire dovrebbe essere già presente negli stati precedenti. Grazie. Grazie.